Dalla teoria alla conoscenza diretta. Hanno studiato sui libri di scuola i Salumi DOP a Piacentini e oggi hanno la possibilità di vedere come si producono. Merito di un progetto finanziato dal Ministero dell'Agricoltura e organizzato dal Consorzio Salumi e dall'Istituto Alberghiero, che porterà nel periodo dell'Expo diverse classi di scuole di tutta Italia in visita all'Istituto Piacentino. Attraverso un percorso di degustazione, di visita del territorio e dei luoghi di produzione, gli studenti potranno poi diffondere nelle loro zone di origine ciò che hanno imparato. Noi pensiamo che questo progetto molto concreto abbia la possibilità e ne abbiamo la testimonianza perché sono già oltre 500 gli studenti che sono prenotati su questo progetto e vengono un po' da tutte le parti d'Italia. Pertanto progetto semplice, concreto, che mette assieme la scuola con il Consorzio Salumi. In visita oggi le classi prime dell'Istituto Alberghiero di Trino Vercellese. Siamo diretti a Parma, abbiamo pensato di fare questa deviazione interessante dal punto di vista professionale e quindi abbiamo aderito a questa piacevolissima giornata di approfondimento per i ragazzi per quanto riguarda proprio i prodotti del territorio. Così possono migliorare le loro conoscenze anche perché sono ragazzi di prima. Quindi una classe prima è sempre un po' così. Bisogna impostare un discorso di accoglienza e quindi anche di interesse e di approfondimento per il loro futuro lavoro. Il pranzo, oltre ai salumi, prevede nel menù anche i pisarei, mentre da Trino i giovani e studenti hanno portato il riso, prodotto tipico del loro territorio.